Leon, lo so che le mie armi non ti interessano, volevo dirti che sei un vero legionario e sono fiero di te ragazzo. Grazie, buona giornata, la rivederci amico. Buongiorno signori e signori, dopo come vedete oggi abbiamo un altro giorno di ripresse, sono Ana Soltani, sono la regissora. Adesso vi facciamo parlare con i miei ragazzi che oggi sono tutti qua, tutti attori, belli carini, guardate, ci avete la parola. Ciao a tutti, sono Andrea Bacarelli, ho lavorato in tantissimi film, ma oggi devo essere qui con Virgil, è un onore, visto comunque che è un bel film, una famiglia. Ringrazio la regista Anna, grazie Virgil comunque di aver venuto in questo set, grazie ancora. Ci sono riusciti alla festa del cinema e è un onore per me, farmi parte. Francesco adesso tocca a te, anzi boss. Grazie ragazzi, mi chiamo Antenero e Francesco. Ho partecipato su diversi set, tra i quali squadra antimafia, ho fatto anche spalla a Panariello, uno spot della Wind, ero il navigatore, Pistofo Colombo, va bene. E anche interpretato Maurizio Gucci, comunque sono veramente onorato di essere qui in questo set meraviglioso, Virgil, Anna e il nostro cameraman, Petro, sei fortissimo. Anche io ho conosciuto il presente Virgil al Cinema Festival di Roma, ora do la parola al mio, al nostro boss, a Pitbull. Pitbull, Pitbull, ciao, mi chiamo Simone Coletta, attore soprannominato Pitbull. Sono contento di aver partecipato con il nostro mitico Virgil. Niente, stiamo avanti, grinta. Viva Leon. Viva Leon. Sempre io. Ragazzi, io vorrei ringraziare di cuore questi importanti personaggi, perché non sono le persone così semplici, non sono comparsi, sono persone, sono dei attori che hanno girato un grandissimo film che tutti i rumeni di qua in Italia hanno visto o su Canale 5 Mediaset o su Rai. Ringrazio di cuore perché sono venuto a darmi la mano su questo proietto internazionale Italia-Romania, questo film Leon Legionario, film che uscirà su tanti canali internazionali, su tante cinematografie. Poi, non soltanto ringrazio che sono venuto a girare con me oggi sul set, diciamo, la chiusura del film, ma ringrazio per il cuore che hanno. Grazie ragazzi. Dalve, buongiorno a tutti, mi chiamo Petro Ruzzacchi e sono onorato di essere qui oggi, non solo oggi, vicino alla produzione Virgil Film, vicino alla regista Anna Soltani. Sono onorato di avere oggi avanti alla telecamera questi belli attori che non è facile a recitare certe scene perché è un film di azione, un film che praticamente deve essere molto timbrato perché deve essere un mafioso, quindi non può essere un attore leggero e praticamente c'è tanta fatica e tante satisfazioni e tanti nervi che alla fine porterà su grandi schermi grandi risultati. Vi ringraziamo e vi ringraziamo il Parallel Virgil. Sì, e vorrei ringraziare ancora il signor sindaco di Celere, il signor vice sindaco di Celere, tutto il comune di Celere, e il signor sindaco di Celere è con noi ragazzi. Prego, grande onore per noi, buongiorno e grazie signor sindaco, i nostri accordi, io vorrei ringraziare a voi per buona disposizione perché abbiamo fatto tanti giorni di riprese e di azione in questa bellissima città di Celere, e se volete una parola... A noi ci ha fatto piacere, ci ha fatto piacere che hai scelto Celere per poter fare questo film, che so che avrà molto successo e quindi conoscere anche il territorio con delle location per film in questo gemellaccio tra Italia e Romania che è molto bello. Noi abbiamo diversi cittadini e ci ha fatto piacere appunto di unire persone per fare questa cosa, hai fatto molto piacere, lo sai insomma, hai avuto modo di conoscere il nostro territorio, la natura, anche il paese, la cultura. La cultura, esatto, che si deve unire insieme per delle cose di questo genere. Anche noi devi ringraziarti perché ne hai fatto la disposizione anche a vostre comune, siamo stati proprio orgogliosi, devi fare proprio un grande, grande, grande ringraziamento. Per tutto quello che l'avete fatto per noi. Tutta la Romania e tutti i rumeni e tutti gli amici miei italiani che sono a un livello molto alto, il signor sindaco ha messo a disposizione per il nostro film il suo ufficio. Grazie, 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 grazie. Mi ha fatto piacere, mi ha fatto piacere che è stata, diciamo, insomma… Sì, dove ha girato pure il signor vice sindaco con noi che lo salutiamo. Siamo oggi in Sardegna. Un grande uomo che ha un cuore estraordinario di buono e vorrei ringraziare pure la popolazione di qua perché ne ha sopportato, diciamo. E' supportato i cittadini, sono stati disponibili, la Crocea Rossa, a tutti, a tutti che hanno… Poi si vedrà su grande televisione perché noi vogliamo portare su Mediaset, su Rai, io già ho cominciato a fare interviste che ho parlato pure su, diciamo, un po' di serie fa, su una grande intervista, sono stato invitato su una grande televisione in Città Celeste, la Roma, dove è in abbondanza, ma… Mi ha fatto un'intervista dove ho salutato a voi, ho salutato il comune, ho ringraziato a tutti quanti dove abbiamo girato. Ragazzi, noi vi salutiamo e… Tutto l'onore ci viene scritto dal comune, dal Celleri, ringraziamo il sindaco, ringraziamo a tutti… Una bella zona ragazzi, venite. Una buona giornata da tutti. Ciao, ciao. Un secondo per la parola. Ne avevamo due. Un secondo. Ciao. Innanzitutto, visto oggi ho avuto tantissimi posti per lavoro, grazie a Dio, sindaco, questo monumento a chi è… È, ai caduti della prima e della seconda guerra mondiale. Ci sono tutti gli scritti, i nomi, praticamente, che hanno dato la loro vita per la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. E proprio sabato c'è stata la commemorazione dei caduti e come tradizione portiamo la corona dall'oro in ricordo, ovviamente, di questo estremo gesto che c'è stato. È meraviglioso, mi sembrano giusto comunque dirlo e farlo notare perché ci avete ospitato, ci avete sopportato e sopportato ed è giusto comunque far vedere questo paese. Far vedere anche queste tradizioni. Se avete finito io devi dare un abbraccio al sindaco che è troppo giovane, devi ritrattiarlo, ragazzi, guarda. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie a Dio, ma? No, non è registrato.